Hello, here is Rangu. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry, with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Ceramica da tavola preferito Kang U.S. serie. La qualità di colore grigio della nonna più modello di marmo imitazione. Utilizzando un metodo speciale vecchio. Un senso molto di età. Buono per fare una tazza di caffè forte o di tè al latte. Al sole del pomeriggio forma lentamente concava. Comic Miao Exquisite Day Dwelling. Una gamma molto completa di stoviglie giapponesi. Così come molti altri stili di stoviglie in metallo. Vetro e legno. Questo è anche un negozio per lo shopping unico. Wabi Sabi Tableware è molto bello da fare. Il set è adatto anche per i regali. Vedere le foto condivise da altri. Amore per cucinare in pochi minuti. Taobao termine di ricerca. Giapponese Magnolia Fiore piatto in ceramica piatti creativi piatti neve smaltato porcellana casa ciotola colazione piatto pesce cena piatto da tavola. La casa di Sherry ha una gamma particolarmente ampia di categorie. Dai grandi utensili da cucina ai piccoli coltelli. Forchette e piatti per condimenti. Una varietà di stili. Giapponese e europeo. Semplice fantasia. L'unico denominatore comune è che il valore è molto alto. Si può sempre scegliere un adatto per voi. Buongiorno negozio. Il nome del negozio rende la gente piena di vitalità e vuole fare una buona colazione in un negozio. I piatti. I vassoi. Le tazze da latte e le altre stoviglie adatte alla colazione di una persona sono deliziosi. Alzarsi la mattina e fare una colazione deliziosa ti fa sentire bella tutto il giorno. Porcellana di riso glutinoso. Il solo nome vi dice che è un negozio a base di ceramica. Stile giapponese. Piccola varietà non è molto. Non c'è niente da comprare in giro. Si può sempre trovare qualche oggetto da tavola più interessante. Il prezzo è anche molto buono. Il negozio ha una sezione di cibo per una sola persona. Che vende stoviglie e set adatti a mangiare da soli. Il che sembra abbastanza premuroso. Taobao termine di ricerca. Riso glutinoso porcellana giappone siware importato dal giappone ultra leggero porcellana bella noodle bowl alta noodle bowl temperamento classico. Imballatore di legno giapponese amatoriale. Stile giapponese molto forte. Specializzato in ceramiche giapponesi. La maggior parte delle quali è fatta in uno stile antico. Molto artistico. La casa è decorata in stile giapponese. Potresti voler dare un'occhiata. Questa serie è fatta di effetto forno. L'effetto smalto varia. Non il regolare colore solido. Ciotole di medie dimensioni. Grandi ciotole di riso. Piccole ciotole di noodle. Mangiare porridge e zuppa. Ammollare l'avena. Mangiare un po' di frutta sono buoni da usare. Taobao search term. Peck Japan import site o scandinavian minimalist 4 color tableware set plates balls caps saucers underlias color. Lo stile generale è minimalista. Ci sono alcune serie occidentali di stoviglie. Particolarmente adatte al piatto a forma concava. Ci sono anche pentole e padelle e piccoli utensili da cucina. Che si tratti di prezzo alto o basso. Il valore di tutti gli alti per lasciare che la gente non può tenere. Precedentemente visto a casa di un collega di che sta cosa nera. Molto simile. Taobao termine di ricerca. Piatto in ceramica nero. Nebbia creativa giapponese. Stoviglie setretro. Piatti ciotole di riso. Ciotole di zuppa. Piatti di verdure. Piatti bistecca occidentale. Bazzar di pittura. I suoi prodotti sono sul lato vintage. Un sacco di stile giapponese. Semplice e pulito un negozio. Le foto sono anche molto pulito. L'insieme hanno una sensazione calda. Se ti piace la produzione cinese di stile giapponese può considerare questo. Il prezzo non è costoso. Ha detto lo stile giapponese. Infatti. Ci sono molti elementi cinesi nello stile giapponese. Non usare. Anche a casa come decorazione è anche molto qualità o... Il prezzo non è costoso.